E' stato arrestato anche Hassan Rami, il fratello di Mustafa, il ventenne marocchino fermato nei giorni scorsi per la brutale aggressione e danni di un poliziotto di 28 anni la sera del 6 febbraio nella pineta di Viareggio. L'agente, colpito con una pietra al volto, aveva subito un delicato intervento chirurgico risultando per fortuna fuori pericolo. Il giovane, proprio come il fratello, è accusato di spaccio di droga, irregolare anche lui in Italia e con numerosi precedenti alle spalle. E' stato fermato nei giorni scorsi dagli agenti del commissariato di polizia di Viareggio nel corso dei massicci controlli e antidroga disposti nel parco cittadino. Insieme ad altri due nordafricani è stato fermato e accompagnato al centro di permanenza per i rimpatri di Torino, dove rimarrà, insieme agli altri due, in attesa di essere trasferito nel paese di origine. Il fratello Mustafa intanto resta in carcere a Lucca. Era stato individuato e arrestato in pochissimi giorni dagli uomini del commissariato per l'efferato attacco al giovane agente di polizia. Era già stato beccato varie volte in passato, sempre per vicende legate allo spaccio di droga. Intanto proseguono in queste settimane i controlli della polizia, insieme al personale del reparto Prevenzione e Crimine di Firenze, per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni del Carnevale di Viareggio, che vedono in aste di partenza anche le feste rionali notturna. In questi ultimi giorni le forze dell'ordine hanno controllato in tutto 50 persone, di cui 30 stranieri, passato al setaccio numerose attività commerciali della città.